a quella signora con gli occhi come la rama allora io ci metto la faccia io ci metto la faccia sono uno di quelli che ha precedenti penali giusto? io da quando ho avuto il reddito andavo avanti con il reddito Mola Meloni ha detto che chi ha precedenti penali non prende più il reddito praticamente mi sta dicendo vai a rubare la... no, però il reddito in generale non va abolito perché là vogliono prendere quei soldi e vogliono finanziare a Cusfizzi e Salvini però tu dovresti aiutare le persone che hanno più bisogno io non so, assolutamente e non solo io penso che il reddito non solo non va abolito in questo momento ma noi vi dobbiamo aiutare pure sulle bollette elettriche sulle pensioni perché se prima una pensione era 600 euro ed era un problema adesso che devi pagare il tripolo e le bollette sempre questo 100 euro come fai? dobbiamo anche indicizzare pensione e stipendi al problema dell'inflazione questi sono tutti i temi che dobbiamo affrontare però io vedo che Salvini, Meloni, Berlusconi al sud non stanno proprio pensando no, no reagiamo tutti insieme ciao, grazie, ciao